Miei carissimi milanesi, un'altra puntata, un altro appuntamento, un'altra giornata o serata insieme per conoscere un altro carissimo milanese. Una volta si diceva ma che musica maestro, oppure attacca la musica, c'era anche chi diceva così, no? Ma insomma sempre c'è qualcuno dietro che deve dirigere un'orchestra o comunque dirigere la musica che a noi piace e lo scopriamo dopo la sigla. Miei carissimi milanesi, bentornati, ben ritrovati qui con noi. Quest'oggi il nostro carissimo milanese che è venuto a trovarci in studio è Enrico Saverio Pagano. Buongiorno Enrico. Buongiorno e grazie dell'invito. Prima cosa, un carissimo milanese che non è di Milano. Come tantissimi altri carissimi milanesi. Sì, io sono romano, poi ho vissuto qualche anno a Varese, in altre città della Lombardia e da agosto dell'anno scorso invece mi sono trasferito qui a Milano. E già però ti chiamiamo milanese perché così Milano lo sai, no? Milano accoglie tutti. Bravo. E devi stare le sue regole. Tu ci stai le regole di Milano? Ci provo. Infatti sappiamo che Milano se tu arrivi e accetti quello che ti chiede in cambio, poi accetta tutti, anzi, apre le sue braccia. Soprattutto quando poi un milanese che arriva è un milanese eclettico e interessante come te. Classe 1995, giusto? Esattamente. Quindi giovanissimo, direttore d'orchestra. A tutti gli effetti, abbiamo il patentino ormai da direttore d'orchestra, giusto? Eh sì, 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 direi che, come dire, fai proprio quello di lavoro? Sì, faccio il direttore d'orchestra. Sì, ma poi cosa fai? Mi chiedo, cosa fai? Sì, no, ma di lavoro cosa fai? Esatto, è un hobby. No, no, invece è un lavoro, ogni tanto accade. Come sei arrivato a fare il direttore d'orchestra? A parte il percorso di studi, ma proprio come... Cioè, come sei arrivato una mattina e detto io voglio fare... Non voglio fare la rockstar, non voglio fare la trap, ma voglio fare il direttore d'orchestra? Beh, secondo me l'idea, il fascino del direttore d'orchestra è qualcosa che, senza saperlo, un po' arriva a tutti, come fare l'astronauta, poi magari ti rendi conto che devi studiare ingegneria, devi studiare fisica, quindi ci sono anche altre, come dire, c'è un percorso di studi che si deve fare. Beh, non penso che studiare la musica come la studiata tu non penso sia proprio una cosa semplice. No, infatti, infatti, quello va dopo l'infatuazione dell'immagine del direttore d'orchestra, io sono cresciuto comunque amando la musica classica, ho iniziato a suonare molto presto, avevo sette anni, ho iniziato a suonare il violoncello e poi da lì ho iniziato ad apprezzare anche uno studio più teorico della musica e questo mi ha portato, secondo anche dei casi della vita, perché poi c'è anche il caso che ha una componente importante, a iniziare a dirigere molto presto. A quant'età hai diretto la tua prima opera? Il primo concerto l'ho fatto a 19 anni, l'opera... Ho già sbagliato. No, vabbè, per carità, la prima opera ne avevo 23, 4 anni dopo, invece il primo concerto è stato a 19 anni. 19 anni con un'orchestra che sicuramente c'era dentro gente che aveva il doppio da tua età come minimo, o era un'orchestra di giovani ragazzi? No, l'orchestra di giovani, l'orchestra che poi ancora adesso dirigo perché l'avevo fondata con un gruppo di amici allora, l'orchestra della Camera Canova, quindi diciamo che molti erano miei coetanei, non tutti e poi vabbè quando si inizia a fare questo mestiere molto presto ci si deve scontrare inevitabilmente col fatto che tante delle persone che suonano sono più grandi anagraficamente. Beh però già pensavi che c'era comunque un'orchestra che appunto tu hai fondato insieme ad altri tuoi coetanei, diciamo, una speranza c'è quindi. Ma sì, almeno un messaggio di speranza, sì, 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 se si vuole veramente una cosa poi C'è lì che hai iniziato a suonare a sette anni il violoncello? Esatto, sì. Ok, cosa suonava il settenne Enrico al violoncello? Beh... Io facevo giusto con la pianola alla barilla, come ti ho fatto capire, no? Tra parentesi, chiediamo barilla ma avrà un nome, credo, quell'opera, però vabbè comunque... Beh, diciamo che... Secondo me Enrico non sa cos'è la barilla, la musica della barilla, non sa cos'è. Temo di no, temo di no. Se tu non sai... Ah sì? Non sapete, vedi, è già successo, non ti voglio imbarazzare, non ti voglio metterla, ma è già successo con quelli che dal di là del vetro sono i ragazzi che studiano e che sono qua a fare il tirocinio e che quando nomino questa musichetta che è usata per la pubblicità alla barilla cadono dal pere e dicono non so cos'è, era l'unica roba che noi, figli degli anni Ottanta, sapevamo fare con la pianola, con tempi, nomi, cognomi, Marchesi, tanto quanto tutti sponsor, come no, neanche uno. No, e quindi cosa suonava invece il giovane Enrico a sette anni? Sette anni il violoncello più grosso di te. Sì, si prendeva quello un po' più piccolino per riuscire a suonarlo e allora, chiaramente il violoncello, il violino, questi strumenti, gli strumenti ad arco appunto, necessitano di una parte proprio di tecnica e di studio quotidiano che non sono neanche pezzi, perché sono quelle famigerate scale, arpeggi, queste cose. Quelle cose che la zia e la nonna non sopportano più di sentire dal piano di sopra. Esattamente, però mi ricordo che avevo comprato, in quegli anni io guardavo un sacco di Signore degli Anelli e Harry Potter, avevo comprato un'antologia delle colonne sonore del Signore degli Anelli per il violoncello e il pianoforte e quello era stato una delle cose che più mi erano piaciute. Urlando you shall not pass suonavi il violoncello davanti all'uscio di casa. Esattamente. Beh, interessante. La passione per la musica classica arriva da una famiglia che ti ha insegnato questo o arriva tutto da solo? Metà e metà. I miei non sono dei musicisti, non sono figlio d'arte, però hanno sempre ascoltato musica classica in casa mia e quindi diciamo io sono cresciuto con questo, chiamiamolo sottofondo, se sottofondo è la parola giusta, però poi è qualcosa che dallo stimolo ricevuto poi che ho sviluppato io e cui mi sono appassionato da solo, diciamo. Sapessi quanti Beatles ho ascoltato io e non ho imparato niente, quindi immagino che poi c'è la seconda parte, ce la devi mettere tu immagino. Beh, adesso faccio una domanda che ti hanno fatto chiunque, tu ti scusami, te la faccio anch'io. Della musica moderna salvi qualcosa? Sapere? No, nel senso l'ascolto, penso. E salvi qualche cosa? Ah, salviamo. O è tutto da buttare via? No, vabbè, perché è semplicemente un modo diverso, secondo me, di rispondere ad un bisogno che abbiamo noi come individui, quindi no, l'ascolto anche. Nel tuo peregrinare nel nord Italia, no, io ci vedo con il violino, il violoncello che vai, tipo un gitano, no, mi stai in opera, mi stai in opera proprio così, no, però ho studiato tantissimo in varie città. Ho studiato in tante città, sì. Alla fine, per fortuna o per sfortuna, come diceva Gaber, sei finito invece a Milano. Com'è questa Milano che hai trovato? A me Milano piace tantissimo, ci sono sempre cose da fare. Il segreto da un romano è ancora più bello, cioè noi milanesi godiamo ancora di più nel sentire questa cosa. Diciamo, l'unica alternativa a Roma dove vivere in Italia mi sembra Milano, eppure sei un più fredda, forse a volte troppo fredda, però ti dà in cambio molto, quindi è una città dove c'è sempre qualcosa da fare. Che cosa secondo te appunto può dare in cambio a altri giovani, Enrico, o direttori, o comunque con altri lavori così particolari ma così interessanti, su cui appunto quanti anni hai studiato in tutto per riuscire ad arrivare? Ma io ho fatto dieci anni violoncello, per farvi capire, non è che si arriva lì stripellando facendo comunque hobby, cioè si arriva perché c'è una carriera accademica di tutto rispetto. Che cosa offre Milano? Dicevi offre tanto, cos'è che secondo te appunto offre di diverso magari da altre città italiane o comunque ti ha offerto e tu hai detto che bello trovarlo qui? Beh intanto se uno ha un progetto, in questo caso, nel mio caso ovviamente un progetto culturale, ma un progetto in generale, Milano è il posto dove ci sono gli sponsor, dove accadono le cose in Italia e quindi è più facile far sì che il proprio progetto trovi un riscontro e possa realizzarsi. Appunto, gli sponsor, gli eventi, ma anche le stesse istituzioni sono molto sensibili a nuovi progetti, nuove idee, le fondazioni e questo viene più facilmente qui diciamo che altrove. Poi chiaramente la qualità della vita è quello che puoi fare anche al di fuori del lavoro, che penso che renda Milano unica. Prima hai parlato della tua orchestra da camera Canova, mi raccontami un po' come è nata quell'idea e come sta andando anche, nel senso che non è, l'avete fondata, l'avete del 2014. Nasceva come orchestra giovanile, si chiamava orchestra giovanile Pizzetti, la redazione mi dà questa informazione, giusto? Sì, ha avuto tante evoluzioni, adesso orchestra da camera Canova. Poi spiego, sei dieci anni infatti eravate dei bambini. Eravamo dei bambini. Diciamocelo proprio. Sì, sì, eravamo degli studenti in conservatorio ancora, io ancora non avevo iniziato a studiare direzione d'orchestra e mi sono trovato con, avevo comunque questo desiderio, mi sono trovato con un gruppo di amici. Il tuo praticantato è stato praticamente. Esatto, sì, sì, è stato, ma sia per me che per loro, è stato un laboratorio di crescita nei primi anni, nei primi anni si imparava facendo, non che adesso non si impari più, si continua sempre a imparare, però lì era proprio sporcarsi un po' le mani, diciamo, con la vita pratico. Qual era l'obiettivo appunto di l'orchestra da camera Canova e quali sono stati poi quello che avete riuscito, i vostri obiettivi che avete poi raggiunto e forse anche superato a quanto ho capito? Ma all'inizio l'obiettivo era semplicemente avere un posto dove suonare, suonare e magari ogni tanto qualcuno che ci inizia ad ascoltare. Non è scontato, tu dici. No, 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 per niente. Da lì poi ci siamo spostati a intanto cercare di essere anche pagati per fare questa cosa, che è un passaggio non... Ancora più difficile del pubblico, forse. Eh sì, assolutamente non indifferente. E questo è successo più o meno nel momento in cui siamo diventati dei professionisti, nel senso che abbiamo finito il nostro percorso di studio e parallelamente siamo anche stati riconosciuti come professionisti, nel senso che hanno iniziato a pagarci per fare i concerti. E da lì poi una grande svolta è stata sicuramente quella durante la pandemia. È un momento in cui per noi operatori del mondo dello spettacolo, insomma, è stato molto complicato. Tanti hanno addirittura cambiato mestiere o sono tornati a studiare altro. Noi però abbiamo avuto due occasioni importanti, conoscendo Alessandro Baricco, che ci ha coinvolti in un progetto all'Arena di Verona dedicato a Beethoven, perché era l'anno dei 250 anni dalla nascita di Beethoven. E quindi questo ci ha, diciamo, messo da un certo punto di vista sotto i riflettori. Poi è conseguita una mia nomina dalla rivista Forbes nei 100 under 30 che cambiano l'Italia. Questo perché appunto in un anno in cui era successo poco e niente, quell'evento aveva suscitato abbastanza riscontro, diciamo, un eco. Mi stai dicendo che all'età di 25 anni più o meno con te li avevi lì? Nel 2020 avevo 25 anni, sì. 25 anni tu sei entrato all'Arena di Verona non da spettatore, non per ascoltare un concerto, neanche da musicista, ma da direttore della tua orchestra. Eh sì, è stata una bella emozione, perché poi tra l'altro è successo... Dopo il lockdown, dopo il lockdown. Era il primo concerto dopo il lockdown, dove abbiamo suonato all'Arena di Verona. Quindi rivedere tutto quel pubblico, che poi era super contingentato, perché c'erano invece di 13.000, 3.000 spettatori. Però sì, lo ricorderò per sempre, penso. Tricoli, 3.000... Cioè, perché la mascherina solo li conosceresti tutti, secondo me, da quanto ti le sei goduti anche, diciamo, no? Perché insomma, immagino che... Cioè, tutti e due, cioè, c'è sia chiaramente l'ansia da prestazione, ma anche l'emozione della prestazione, anzi, forse è superiore l'emozione. Credo che poi alla fine è stata benissima, visto che poi siete andati lì, sono proprio l'inizio, il vostro trampolino di lancio, in un certo senso. Quindi, insomma, sicuramente è un'esibizione che si ricorda ancora adesso. Sì, sì, assolutamente. Tu hai fatto alcune interviste dove parli di Milano, no? E in un'intervista che tu hai rilasciato a Milano Città-Stato, Milano Città-Stato ti ha fatto questa domanda. Se avessi due miliardi per Milano, che cosa faresti? Ti ricordi cosa hai risposto? No, non mi ricordo. I parchi, forse, parlavo? Dici che nuovi spazi culturali, aree verdi e luoghi dedicati ai cittadini. Sì, questo chiedevi, bravo. Beh, sicuramente da Romano, che viveva vicino a Villa Borghese, questo è qualcosa in cui Milano potrebbe migliorare. Anche cercare di ridurre, sono banalità, però lo smog, il traffico, è qualcosa che chiaramente rende la vita dei cittadini un po' più... un po' meno piacevole. Però mi sembra anche che sia un po' la direzione in cui la città si sta muovendo, pian piano. Appunto, se penso, la prima volta che arrivai qua a Milano nel 2006, come turista, come visitatore, rispetto alla Milano che vedo oggi, sono due città completamente diverse. E secondo me, comunque, il progresso di solito è in positivo. In particolare in questa città, questi ultimi 15 anni, veramente il suo volto è notevolmente migliorato. Tu hai pubblicato anche degli album, no? Proprio una cosa che ormai è difficile trovare nei musicisti. Ormai dicono che non si vedono più dischi, quindi... Sì. Invece tu ne hai fatti ben due, giusto? Tre in realtà. Ah, tre, ok, scusa, scusa. È uscito il terzo ad agosto. Ah, sì, giusto, ho letto male io. Questa è la differenza fondamentale tra l'esibirti live davanti a un pubblico, forse a cui anche ormai si è un po' abituato, e invece il fatto di dover registrare una chiusura e tutto, che poi venga riascoltata quando uno ha voglia, non so come dire. Sì, allora io sono un grande sostenitore degli album live, nel senso il concerto, o magari più di un concerto, poi si mettono insieme, si tira fuori il meglio, diciamo, di quello che si è suonato, e da quello esce fuori un CD. Perché penso che restituisca una maggiore fedeltà, diciamo, a quella che è l'esperienza poi di andare a sentire un concerto dal vivo. Poi la questione sta, come interprete, nel fatto che nell'album si può veramente portare al suo estremo, diciamo, la propria idea musicale. perché chiaramente nella musica classica in particolare le difficoltà tecniche e l'esecuzione tecnica sono sempre, diciamo, quell'ostacolo che impedisce una interpretazione di realizzarsi al 100%. E questo ostacolo è il più facile da superare, chiaramente, in studio, dove poi si può sistemare tutto, i tecnici del suono lo sanno molto bene quanto si possa modificare un'esecuzione. Adesso faccio una bestegna, credo. Esiste una specie di autotune per le orchestre? Non so, qualcosa del genere, no, non c'è. Autotune, no, neanche con i cantanti, l'autotune non si può usare. Però diciamo che si può fare un intervento importante nel momento in cui si va poi in sala. Più un tagliacucci, diciamo. Un tagliacucci, esatto. Poi gli equilibri, si possono mascherare un po' di cose. Ma diciamo che forse è una di quelle musiche, quella che sono i tu, dove veramente l'intervento delle macchine è un po' meno... Anzi, si spera non ci sia. L'autotune veramente... No, però, siccome nella musica Pops sentiamo veramente un intervento molto importante. A volte è anche bello, nel senso che a volte viene utilizzato come fosse quasi uno strumento, però altre volte invece viene utilizzato un po' così. Più che altro poi quando si sente senza lo stesso cantante. Infatti, quello fa molta, molta paura poi, infatti. Più dicevi, nel 2021 Forbes ti ha inserito nella lista dei 100 under 30 destinate a cambiare l'Italia. Beh, una cosa semplice, no? Poca responsabilità. Sì, infatti, come dire, tranquillo, relax. Sì, è stato bello dal punto di vista psicologico, soprattutto perché nel 2021, mentre tutti e quattro le altre professioni avevano riniziato a lavorare, noi eravamo di nuovo chiusi in casa a fare nulla. Io ricordo che, non so perché, per quale ingenuità, mi aspettavo che dopo Natale avrebbero riaperto i teatri. Invece, dopo Natale abbiamo avuto una zona rossa tutta Italia, quindi ben lontani da qualsiasi riapertura. Ed è stato per me il momento più difficile in assoluto dei due anni di pandemia. Dopo un mese, però, è arrivata questa nomina sulla rivista Forbes e questo mi ha dato un po' ringalluzzito, diciamo, mi ha dato un po' di speranza di nuovo. E adesso bisogna avere un po' di... Adesso devi farlo. Io faccio del mio meglio, vediamo un po' cosa ne esce fuori. Come la cambiamo? Con che cosa potremmo pensare di iniziare? Ma, per quanto riguarda chiaramente il mio settore, quello... Cioè, un tipo su metallurgia e... Aviazione non ti chiedo niente. Andiamo nelle altre categorie. Ma, allora, io credo che dare del lavoro dignitoso ai nostri migliori diplomati dei conservatori sia qualche cosa di prioritario e importante ed è l'obiettivo principale dell'Orchestra Canova. L'Orchestra Canova esiste per far sì che qualcuno, i miei colleghi, una volta che finiscono il loro percorso di studio, possano essere trattati da professionisti e lavorare come tali. Questa è la grande difficoltà, diciamo, per chi, secondo me, anche fuori dal mondo della musica, finisci di studiare e cosa fai? Il conservatorio ti mette nel mondo del lavoro? Purtroppo no. Quindi dobbiamo superire a questa mancanza, anche perché gli strumentisti prodotti nei nostri conservatori sono ogni anno più bravi, perché il livello tecnico si sta alzando vertiginosamente negli ultimi anni. A cosa è dovuto, secondo te, questo alzamento del livello tecnico? Ma su tutto, adesso, proprio il mondo della musica, comunque sulle produzioni anche, e poi mi dici anche sui strumentisti, quindi, a cosa secondo te è dovuto questa capacità ormai? C'è tanta gente in più che suona e che si dedica a questo. Uno pensa che nessuno lo faccia, invece c'è veramente tanta gente che studia. Com'era? Con la cultura non si mangia, no? Qualcuno aveva osato dire. Sì, esatto. E questo ce lo portiamo ancora avanti oggi, dopo vent'anni. Come dire, le conseguenze di quella frase. Però, appunto, c'è molta più competizione e poi c'è il fatto che iniziamo a capire cosa accade anche fuori dall'Italia. E quindi il livello tecnico in Inghilterra, in Germania, è da sempre molto, molto, molto alto. E quindi la possibilità di mobilitarsi e di andare a studiare altrove, di sentire anche come suonano altrove, secondo me ci spinge a migliorarci, a migliorarci, e questo ha portato ad un innalzamento generale del livello tecnico. Poi pensiamo che negli anni Ottanta, quando un'orchestra bandiva un posto a tempo determinato per un cornista, per dire, mi raccontavano dei cornisti di orchestra stabili che si presentavano in tre, una cosa del genere. Magari erano tre posti e tre candidati. Oggi per la stessa cosa si presentano 200 persone e quindi questo chiaramente ti spinge ad essere sempre più alto dal punto di vista della capacità tecnica. La musica classica si è sempre pensata fosse la musica, assolutamente, dei vecchi. Poi invece si conosce te, si vedono anche altre, appunto, tutta la vostra orchestra, è la prova che non è così. Si vede sui giornali che sempre di più se ne sta parlando. Adesso, non vorrei sempre far pubblicità, Apple ha fatto un negozio online di music and streaming appositamente per la musica classica, ha chiamato classica, tra parentesi. Quindi insomma, Qualcosa forse si sta muovendo. Si sta muovendo qualcosa oppure eravamo noi che non ce ne accorgiamo e non si è mai fermato niente? Io penso che c'è sempre stato, la classica, la musica risponde a un bisogno delle persone e questo bisogno c'era 200 anni fa, c'era 50 anni fa e c'è oggi. Diciamo che, poi magari adesso dico qualcosa di un po' scomodo, però, il livello della musica non classica, non d'autore, diciamo, si è un po' abbassato negli ultimi decenni, soprattutto pensando ai lavori degli anni 80, degli anni 70. E quindi probabilmente anche quella musica non riesce a rispondere più a tutti i bisogni delle persone. Mentre quella musica si è sviluppata nel momento in cui la classica era andata in una direzione assolutamente solipsistica, perché se pensiamo al post-guerre mondiali, quanto è diventato difficile ascoltare, non so, pensiamo al film con Alberto Sordi quando lui va al concerto di musica contemporanea, c'era un po' quell'idea lì della nuova musica classica, della nuova musica classica che veniva prodotta e quindi il bisogno dell'ascoltatore è andato da un'altra parte, abbassando però così tanto, diciamo, il livello intellettuale di quello che si è andato a produrre nella musica non classica, nella musica leggera, magari c'è un ritorno invece a quello che è il teatro. Poi l'opera è qualcosa che in Italia piace tantissimo ai giovani, non so se per l'esperienza di andare a teatro, per quella cosa unica che è l'opera, dove hai un godimento per gli occhi, per le orecchie, per qualsiasi cosa, perché è uno spettacolo totale e quindi vediamo che nella scala ogni volta che fa uno spettacolo dedicato agli under 30 ci sono le file fuori come per un concerto di musica rock e questo è qualcosa che ci riempie di speranza. Vedere le code come fossero i maneskin invece per l'orchestra canova insomma non sarebbe male, no? No, infatti, magari un giorno. Secondo me non manca molto, ma insomma davvero, state facendo qualcosa che fino a qualche anno fa sembrava impossibile, cioè riuscire appunto a appassionare prima di tutto i musicisti stessi che magari spesso invece lasciavano il mondo della classica per andare al mondo del rock, al mondo del pop, se non peggio, e oltre tutto un pubblico che finalmente ha, come dicevi tu, trova in voi una risposta a una richiesta. Cosa suonate? Ma prima di tutto poi, l'orchestra da camera è una cosa diversa da un'orchestra normale, giusto? Leggermente no. Com'è che funziona? Diciamo l'orchestra da camera arriva ai 40 elementi, più o meno. Bella camera. Sì, una camera grossa. Uno per pace. L'orchestra sinfonica invece sono sopra i 40, ma poi a volte l'orchestra da camera suonano anche in 50, noi l'anno prossimo abbiamo un concerto, una produzione dove saremo in 55. L'anno prossimo, ci sono i giacos, avete già cadere il 2024 pieno? Beh, più o meno sì. Più o meno sì, ok. Beh, perché adesso non vorrei dire, io faccio fatica a organizzare una partita di Paddle in quattro, pensa a un'orchestra con 40 elementi, effettivamente non deve essere molto semplice. La direzione è una cosa che per chi la guarda è super affascinante e super incomprensibile. Vi vediamo sbracciarvi, usare questa... Si usa ancora la bacchetta o non si usa più la bacchetta? Io non la uso tanto, però sì, diciamo che si usa. Ok, si usa ancora un po'. Se dovessi farmi un... So che ti sto chiedendo una cosa veramente assurda. Se dovessi farmi un tutorial veloce per farmi capire cosa tu stai facendo là sul podio, si chiama? Sì. Ok. Come potresti spiegarmelo un po'? Allora, diciamo che quando si studia solfeggio, quando siamo molto piccoli, a volte si spiega... Esattamente. Con la manina che fa così, Con la manina che fa così. Fa così la manina. Un, due, tre, quadri. Io pensavo fosse l'Ave Maria, cioè il Signore della Croce, invece no. Diciamo che è un... Fai vedere dal punto di vista visivo com'è che è il tempo, com'è lo scorrere del tempo. Per quanto ti stai parlando con un ragazzino alle medie che sta suonando il flauto, perché sono quella roba lì, sono rimasto lì. Esatto. Quindi c'è un modo per far vedere dal punto di vista visivo il tempo che scorre. Quindi se una battuta è in quattro quarti, farai uno, due, tre, quattro. Una cosa del genere, no? Se una battuta è in tre quarti, uno, due, tre. Se una battuta è in due quarti, uno, due. Tutte quante queste cose visive. Quindi questo è il punto di partenza con cui tutti noi direttori siamo più o meno d'accordo, nel senso dobbiamo far vedere la battuta dal punto di vista visivo. Poi la musica ha dentro una miriade di altre cose. Quindi può essere forte, può essere piano, si può suonare in maniera legata, si può suonare in maniera staccata, si può essere più veloce, può essere più lenta. E quindi tutte quante queste altre cose devono essere mostrate all'interno del gesto. E non c'è una scuola unica per farlo. Cioè la parte è molto, molto soggettiva. È uno dei lavori forse più soggettivi che esistono, perché ognuno di noi trova... Perché non è la lingua dei segni, cioè non è quella roba lì. Il punto di partenza è anche quella cosa lì. Però è come quando dici una frase, la puoi dire in mille modi diversi. Con un senso punto esclamativo. Esatto, esatto. E quindi poi trovi il tuo modo di comunicare questo. Ci sono alcuni direttori che lo fanno molto con l'espressione degli occhi, della faccia. Non so, George Pratt è uno che è passato alla storia perché appunto le mani quasi non le muoveva, dirigeva con lo sguardo. Altri direttori invece che sono molto più fisici e molto più presenti, ecco. Quindi ci deve essere una sintonia e un'intimità pazzesca con chi suona con te. Perché se io arrivo anche bravo quanto sono ma non l'ho mai suonato con te farò un po' fatica magari ad adattarmi. Beh, all'inizio ci vuole un po' di assestamento. Però poi comunque gli orchestrali sono dei professionisti abituati a cambiare direttore, abituati a suonare con tantissime gente. abituati da due direttori che ognuno fa un po' come vuole lui. Diciamo che però appunto all'inizio c'è un po' di assestamento però poi loro capiscono, se il direttore è chiaro capiscono subito cosa vuole. Cosa tecnica che mi hanno detto secondo me, non lo so se è vero o no, meglio che voi in realtà siete sempre leggermente in anticipo rispetto alla vera battuta perché io devo vedere il gesto e qui... No, com'è che è questa storia? Beh, diciamo che sì, mentre... Questa è la... Ho fatto un corso... Chiedo la bianetta Morgan a un X-Factor in realtà. Chiedo tutta la cultura musicale e cronica da Morgan, quindi... Ho fatto un corso questo weekend in cui dicevo proprio quelli. Ricordatevi che la direzione d'orchestra è agire in anticipo, è sempre agire in anticipo perché uno abituato magari suona il piano, pensi una cosa, schiacci le dita e il suono viene prodotto. Invece la direzione d'orchestra pensi una cosa, lo fai e però è già passata. Siete quasi in controttempo. Bisogna agire sempre quell'attimo prima in modo che poi l'orchestra possa avere il tempo di reazione perché comunque sono degli esseri umani che devono vedere, capire e poi agire di conseguenza. Super affascinante questa cosa. Prossimi grandi appuntamenti dell'orchestra da camera. Non voglio sapere cosa fate questo weekend, anzi, dacci le coordinate per sapere di più dove siete, cosa fate. Beh, c'è il nostro sito internet orchestracanova.com, il mio sito internet enricopagano.com e le pagine Instagram e Facebook sono quelle più semplici da seguire per restare informati. Stiamo iniziando una residenza artistica alla Villa Reale e il teatro della Villa Reale di Monza e quindi lì ci potrete trovare con una cadenza abbastanza abbastanza frequente. Il primo impegno, il prossimo appuntamento lì sarà il 10 di dicembre, un concerto di Natale che poi andremo a fare anche all'Auditorium Testori a Palazzo della Regione Lombardia, lo stesso concerto. Ok, poi abbiamo già visto che già il 2024 è già pieno di impegni. Sì, quindi pian piano li comunichiamo tutti sul sito. Dal sito si vede tutto. Prima di salutarci mandiamo un messaggio a un altro Enrico Settenne che vuole iniziare questa carriera ma dice però è difficile, cioè tutti i giorni. Si fa di calli, vero? Se suoni il violino e quello di Ex e dice no, gli fa di calli non c'ho voglia, tutto. Però, in fondo, ha voglia di portare avanti questa esperienza. cosa possiamo consigliare a un giovane Settenne che vuole portare avanti questa esperienza? Allora, io penso che l'aspetto che più mi ha fatto poi andare avanti alla fine è... Sai che... questa è una bella domanda cosa posso dire a me? Prima domanda prima che ti dico ma hai mai pensato a un certo punto quando guardavi gli altri quando vedevi gli altri appunto da non più settenne dodicenne, tredicenne senti, ma io sto mio noncello faccio fare un volo alla finestra da stato caster per suonare le Zeppelin? No, in realtà no perché è stato sempre una cosa che sentivo proprio da dentro per cui non ho mai non ho mai avuto da quel punto di vista voglia di cambiare quello che mi ha che invece mi spaventava chiaramente era l'incertezza lavorativa e... Già a 13 anni? Amico, viviti un po' Ah no, non a 13 anni Viviti un po' con serietà No, 16, 18 anni Ebbè, anche lì poi devi fare devi prendere le decisioni Tu sei andato via di casa per la musica a che età? Io sono andato via di casa a 18 anni Poi ci sono tornato durante la pandemia e poi sono riuscito appena finita Allora, mentre pensi a cosa dire a te settenne o a un altro settenne che vuole iniziare secondo me quello che hai detto è interessante invece da dire ai genitori che invece spingono i propri figli verso certe cose se lui ce l'ha dentro come diceva Enrico spingete pure ma se ce l'avete dentro voi e lui no lasciate stare mi viene da dire so che è un consiglio un po' banale ma che forse a volte andrebbe un po' Sì e se ce l'ha dentro veramente è convinto vedi che ha i numeri che ha il talento a seconda questa cosa perché una strada la trovi alla fine e sarai molto più felice piuttosto che se hai scelto di scriverti a ingegneria e l'hai fatto però non perché avevi questa passione e insomma questo è quanto io ringrazio davvero Enrico Severo Pagano grazie mille grazie a te per l'invito sono molto curioso a questo punto di venire a sentirvi alla Villa di Monza appena potrò perché sono molto molto curioso va andiamo l'invito va bene allora attendiamo l'invito ma vorremmo molto molto volentieri grazie mille davvero e seguite il sito per un detto orchestra canova punto com miei carissimi milanesi grazie di averci seguito noi ci vediamo alla prossima grazie a tutti